In questo tutorial vediamo come poter semplificare delle frazioni algebriche. Partiamo da questo primo esempio. Come prima cosa semplifichiamo i numeri. Osserviamo che a numeratore abbiamo 4 e a denominatore abbiamo 12. 4 diviso 4 ottengo 1 e 12 diviso 4 ottengo 3. Passiamo poi alle lettere e partiamo dalla seconda. Dobbiamo applicare le proprietà delle potenze. A numeratore abbiamo alla seconda a denominatore a e allora semplifico a e 2 meno 1 esponente di a a denominatore è pari a 1 e allora quello che resta a numeratore è a. Passiamo poi alle b. A denominatore abbiamo b alla quinta, a numeratore abbiamo b alla terza e allora applicando le proprietà delle potenze semplifichiamo b alla terza a numeratore e a denominatore, ossia dove si trova b con esponente maggiore, calcoliamo la differenza di 5 con 3 che è pari a 2. Allora semplifico il 5 e metto 2 e quindi ottengo b alla seconda. Infine abbiamo le c. A numeratore abbiamo c alla quarta, a denominatore c alla sesta e quindi applicando di nuovo le proprietà delle potenze semplifichiamo c alla quarta e 6 meno 4 è pari a 2. Semplifico il 6 e scrivo 2. Quello che rimane è a numeratore ho a e basta, fratto, a denominatore ho un 3, un b alla seconda e un c alla seconda che vado a ricopiare. Passiamo a questo secondo esercizio. osservo che non posso effettuare nessuna semplificazione in verticale in quanto a numeratore vi è un più. Per effettuare delle semplificazioni in verticali devo avere delle moltiplicazioni e allora come prima cosa a numeratore metto in evidenza un a alla quarta che moltiplica a alla seconda più 1. Infatti 4 più 2 è pari a 6, ossia ho a alla sesta e alla quarta per 1 ottengo a alla quarta fratto a alla terza. Ora c'è una moltiplicazione e posso semplificare a alla quarta con a alla terza. In particolare semplifico a alla terza e 4 meno 3 applicando le proprietà delle potenze ottengo 1 e allora quello che resta è a. L'espressione semplificata è pari ad a che moltiplica a alla seconda più 1. Vediamo questi altri esempi e partiamo dal primo esercizio. Vogliamo semplificare questa frazione algebrica. Osservo che a numeratore ho un più e a denominatore un meno quindi non posso effettuare nessuna semplificazione perché ricordo servono le moltiplicazioni per semplificare in verticale. E allora come prima cosa a numeratore posso mettere in evidenza una x, raccoglimento totale, e allora scrivo x che moltiplica x più 1. Il denominatore mi rendo conto che è una differenza di quadrati e allora posso scrivere x più 1 per x meno 1. Osservo ora che a numeratore vi è il fattore x più 1, a denominatore vi è il fattore x più 1, sono identici e allora li posso semplificare. Lo posso fare perché vi sono delle moltiplicazioni e allora quello che resta è x fratto x meno 1. Vediamo quest'altro esempio. Come prima cosa vediamo se possiamo semplificare i numeri. Abbiamo 2 a numeratore e 5 a denominatore. Sono coprimi tra di loro e allora non possiamo fare nessuna semplificazione. Passiamo poi alle lettere. Iniziamo dalla A. A numeratore abbiamo A la sesta, a denominatore A alla prima. Semplifico la A a denominatore e 6 meno 1 ottengo 5 e allora tolgo il 6 e scrivo 5. Passiamo ora alle B. A numeratore abbiamo B alla seconda, a denominatore B alla quinta. Applicando le proprietà delle potenze semplifico B alla seconda, a numeratore e 5 meno 2 è pari a 3 e allora tolgo l'esponente 5 e scrivo 3. Infine passiamo alle C. Abbiamo C alla settima a numeratore e C alla sesta a denominatore. Semplifico C alla sesta a denominatore e 7 meno 6 è pari a 1, ossia quello che resta è soltanto C. Vediamo quello che rimane. A numeratore abbiamo 2 A alla quinta C fratto, a denominatore abbiamo 5 B alla terza. Vediamo questi altri due esempi e partiamo dalla prima frazione algebrica. Non posso effettuare nessuna semplificazione in verticale perché vi è una somma tra questi due termini, mentre per semplificare mi serve una moltiplicazione. Fisso allora la tensione al numeratore e mi rendo conto che posso effettuare un raccoglimento totale mettendo in evidenza un 2 A che moltiplica A più 2. Infatti 2 A per A ottengo 2 A alla seconda e 2 A per 2 ottengo 4 A. Poi fratto 8 A alla terza. Ora vi è una moltiplicazione, allora posso semplificare i numeri. 2 diviso 2 è pari a 1 e 8 diviso 2 è pari a 4. Semplifico ora questa A con A alla terza. In particolare semplifico la A numeratore e 3 meno 1, sto applicando le proprietà delle potenze, è pari a 2. E allora quello che resta è a numeratore A più 2 fratto a denominatore 4 A alla seconda. Vediamo quest'altro esempio. Osservo che ho delle somme sia a numeratore che a denominatore, allora devo scomporre sia il numeratore sia il denominatore. A numeratore metto in evidenza una x che moltiplica x più 2 fratto a denominatore posso mettere in evidenza un 8 che moltiplica x più 2. Osservo ora che a numeratore ho il fattore x più 2. A denominatore ho il fattore x più 2, sono identici e li posso semplificare. E allora quello che resta è x fratto 8. Semplifichiamo questa frazione algebrica e iniziamo dai numeri. osservo che ho 12 a numeratore e 20 a denominatore. Posso semplificare per 4. 12 diviso 4 è pari a 3 e 20 diviso 4 è pari a 5. Passiamo poi alle lettere. Abbiamo A alla sesta numeratore e A alla settima denominatore. Semplifico A alla sesta numeratore e 7 meno 6 è pari a 1, ossia resta un A a denominatore. Passiamo alle B. Abbiamo B alla nona fratto B alla quinta. 9 meno 5 è pari a 4. Allora semplifico il 9 e metto 4 e semplifico tutto B alla quinta denominatore. Infine passiamo alle C. Abbiamo C alla decima fratto C alla sesta. 10 meno 6 è pari a 4 e allora semplifico il 10 e metto 4 e a denominatore semplifico tutto C alla sesta. Vediamo quello che rimane. A numeratore abbiamo 3, B alla quarta, C alla quarta fratto, a denominatore ho questo 5 che vado a ricopiare e poi questa A e quindi scrivo fratto 5A. Passiamo a quest'altro esempio. Ho delle somme a numeratore a denominatore e allora cerco di scomporre sia il numeratore che il denominatore. A numeratore posso effettuare il raccoglimento totale mettendo in evidenza A alla quinta che moltiplica A alla seconda più 1. Infatti A alla quinta per A alla seconda 5 più 2 ottengo 7 ed A alla quinta per 1 ottengo. Osservo che il denominatore A alla seconda più 1 è irriducibile, ossia non lo posso scomporre. Allora lo ricopio così com'è. Lo metto tra parentesi per mettere meglio in evidenza che a numeratore e a denominatore vi è lo stesso blocco A alla seconda più 1 e allora vado a semplificare A alla seconda più 1 con A alla seconda più 1. Questo lo posso fare perché vi è una moltiplicazione e allora quello che resta è A alla quinta. Vediamo questi ultimi due esempi e partiamo da questa frazione algebrica. Ho una somma algebrica sia a numeratore che a denominatore e allora devo scomporre sia il numeratore che il denominatore. A numeratore posso mettere in evidenza un 3x che moltiplica 2x più 1 fratto. A denominatore innanzitutto posso mettere in evidenza un 9 che moltiplica 4x alla seconda meno 1. Osservo che questo fattore può essere ancora scomposto per differenza di quadrati e allora ricopio il numeratore 3x che moltiplica 2x più 1 fratto 9 che moltiplica 2x più 1 per 2x meno 1. Ora posso semplificare il 3 con il 9. Ho una catena di molti moltiplicazioni e quindi 3 diviso 3 è 1 e 9 diviso 3 è 3. Osservo poi che a numeratore ho il fattore 2x più 1 e il fattore 2x più 1 è presente anche a denominatore e allora semplifico questo fattore con questo fattore. Quello che resta è x fratto 3 che moltiplica 2x meno 1. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa semplifichiamo i numeri. Abbiamo 10 a numeratore e 15 a denominatore e allora 10 diviso 5 è pari a 2 e 15 diviso 5 è pari a 3. Semplifichiamo ora le lettere partendo dalla a. Semplifico la a denominatore e 4 meno 1 ossia la potenza di a denominatore è pari a 3. quindi tolgo il 4 e metto il 3. Poi abbiamo b alla terza a numeratore b alla terza a denominatore sono termini identici e allora li semplifico. Poi abbiamo c alla quarta a numeratore e c alla sesta a denominatore. 6 meno 4 è pari a 2 e allora semplifico c alla quarta a numeratore e a denominatore scrivo c alla seconda. D non può essere semplificata perché a numeratore non è presente nessun termine in D. Vediamo quello che rimane. A numeratore abbiamo 2 a alla terza e nient'altro perché il resto è stato semplificato. Fratto a denominatore abbiamo il 3 ossia questo coefficiente e poi resta c alla seconda e d che vado a ricopiare. E con questo termino il tutorial su semplificazioni di base di frazioni algebriche.